Buongiorno cari amici, avendo parlato ieri di Strauss-Kahn, oggi vorrei affrontare un altro argomento un pochettino più decontestualizzato e forse filosofico, epistemiologico in qualche modo. Dunque, noi sappiamo che esistono i razionalisti che assumono che tutto ciò che esiste è conoscibile. Quindi, sono delle assunzioni, non si sa quanto profonde, perché qualunque razionalista poi si deve fermare a un certo punto nel trovare le radici dei fenomeni, perché si cerca di unificare in qualche modo le forze fondamentali, ma anche se si riuscisse a unificare la gravità con l'elettromagnetismo, saremo sempre alle prese con dover giustificare cos'è la gravità e cos'è l'elettromagnetismo. Comunque non siamo neanche a questo punto ancora alle due teorie, sono del tutto incompatibili. Ma più che appunto appuntarmi su questo punto, la ripetizione, volevo proprio affrontare il tema della possibilità di questo approccio. Ossia noi abbiamo un universo, quindi una serie di fenomeni collegati in qualche modo e poi abbiamo la mente umana, quindi la mente umana che poi crea le teorie, che crea i computer, che crea però, diciamo, alla fine sono dei processi umani abbastanza limitati, essenzialmente, che partono dalle premesse e arrivano, diciamo, a delle conclusioni. Adesso l'approccio razionalista è che praticamente l'universo, il collegamento da tutti i fenomeni che fanno parte dell'universo, quindi tutti questi processi, adesso non spero di non diventare troppo complicato, è omomorfo ai processi mentali. Cioè, in qualche modo, i razionalisti quindi escludono l'esistenza di Dio, dicono che tutto è normale, tutto è razionale, eccetera, eccetera. Loro dicono tutto l'universo ha una sua struttura, una sua complessità, però non è più grande del cervello. Quindi tutto ciò che avviene è conoscibile. Dunque, adesso, diciamo, un po' strano, eh? Adesso già sappiamo che vari, diciamo, matematici, a partire da Gettle a Turing, hanno mostrato come anche delle cose, diciamo, molto semplici, come l'informatica, cioè i problemi, diciamo, descrivibili attraverso un algoritmo, diciamo, e la matematica, quindi la matematica ordinaria come esiste studi a scuola, sono incomplete. Essenzialmente non esiste una teoria che, mediante la quale si riescono a dimostrare tutti i fatti veri. E siamo nell'ambito della matematica. Quindi com'è la cosa curiosa che è avvenuta in questo settore è che praticamente un tempo la matematica era formale, definita, fissa, sicura, e la fisica era invece incerta, quindi approssimava e tutte queste cose. Ora la matematica è diventata incerta, almeno dopo Gettle, e invece la fisica è diventata certa, quindi si cercano la radice dei fenomeni, poi ci si imbatte nel 95% di energia oscura e 95% di materia oscura. Praticamente un 5% sì e no, ci rendiamo conto che conosciamo, cioè che risponde alle nostre leggi. Per chi non conosce questo argomento, essenzialmente si assume che le forze attuali, le forze che sperimentiamo sulla Terra, quindi la forza di gravità, l'elettromagnetismo e tutte queste cose, si applicano, siano in opera in tutto il resto dell'universo. E quindi facendo dovuti conti si vede che le forze in gioco sono superiori a ciò che è osservabile, nel senso anche solo nella nostra galassia è presente una forza di gravità 100 volte circa superiore rispetto ai materiali osservabili. E quindi che cosa si fa? La mente razionalista che dice, non dice, non lo so, forse lo so sbagliato, aspettiamo un attimo, forse magari non ci arrivo, posso limitare a prevedere il tempo a domani e dopodomani, però magari non mi posso immaginare cosa ci sia dall'altra parte dell'universo. Sono che dice, materia oscura, quindi a quel punto conosco il non conosciuto. E quindi cosa si fa? Si manda sulla stazione spaziale un ricevitore di materia oscura, quindi non antimateria, perché qua diciamo ci arrotoliamo, l'antimateria è comunque una materia relativamente tradizionale, cioè si incontra con la materia e genera energia, e quindi l'antimateria per quanto costosa è producibile. No, qua stiamo parlando di materia e energia oscura, quindi di cui non sappiamo assolutamente, se mi si passa il francesismo, una mazza. Però si va avanti, si va avanti. E poi che succede? Che poi tutto ciò che non è mostrabile in forma, non è conseguente agli atteggiamenti razionali, viene scartato come superstizione quando va male, oppure come religione quando va bene. Quindi noi ci immaginiamo una persona, un essere diciamo che compaglia e sparisca, non c'è una legge fisica che lo possa giustificare, quindi chiaramente è un'allucinazione. Siccome non da sempre ci hanno mostrato che queste cose non esistono, perché se esistessero ci sarebbe la ripetitività, ci sarebbe tutta la razionalità, un procedimento razionale che le giustificherebbe. E quindi noi ci siamo condizionati a non vederle più. E quindi anche noi, nella nostra percezione della realtà, facciamo un po' come lo scienziato, quindi vediamo un 5% della realtà intorno a noi. Siamo misticisti? No, non siamo misticisti, teniamo magari forse solo un po' gli occhi più aperti. Non è così come ci insegnano, non può essere che tutto ciò che esiste è un descendimento del ragionamento umano. Non è possibile. Sarebbe una prova dell'esistenza di Dio. I cristiani proprio dicono il contrario, invece sono gli ateli che sostengono che è tutto così, che è tutto gira come un orologio, che si tratta di una questione di tempo prima che si comprenda tutto. Che illusione, che illusione. Magari guardiamo un attimino più in cielo, vediamo quelle cose, chiamiamoli angeli, chiamiamoli extraterrestri, chiamiamoli fantasmi. Non è terrificante, non è terrificante. Cioè se qualcuno... abbiamo un'allucinazione, se vediamo delle cose, magari a fronte della morte di un qualcuno caro, vediamo magari delle persone vicine, qualcuno ci dice no, sei matto, hai delle allucinazioni. E noi rispondiamo ma com'è possibile? Cioè pensi tu con la tua mente piccolina, ma anche piccola fisicamente, cioè non è una questione di limiti di qualche tipo, ma è proprio piccola, cioè sono 3 kg di materia, 3 kg di materia che in qualche modo corrispondono all'universo. Possiamo dire che possa avvenire questo solo se siamo noi a proiettare l'universo. Quindi la nostra mente proietta l'universo, quindi questo è il solipsismo, essenzialmente che siamo tutti una realtà tipo Matrix, per quanto sappiamo che anche Matrix era instabile, anche lei rispondeva diciamo al principio di indeterminatezza o comunque al teorema di Ketel. L'unico modo appunto potrebbe essere diciamo che è un artificio se è modellabile, ma in quel caso noi saremmo molto più semplice di quelli che siamo, perché essenzialmente proprio non è possibile che un meccanismo razionale comprenda tutta una realtà che lo racchiuda, questo è un teorema. Quindi se qualcuno avesse disegnato il mondo intorno a noi dovrebbe essere qualcuno che ha dei meccanismi razionali superiore a quelli nostri, non potrebbe essere uno di noi. E dovrebbe essere diciamo, forse potrebbe pensare all'esistenza di Dio, però diciamo anche dall'anno che si va tanto lontano, perché anche Dio stesso per creare un mondo razionalmente e ha bisogno di una realtà intorno a lui non razionale, quindi probabilmente anche Dio ci avrà un suo Dio e chissà quanto si corre in avanti. Vabbè, abbiamo parlato di Strauss-Kahn ieri e adesso diciamo siamo calati proprio alla terra, all'uomo, quindi alle pulsioni sessuali e quanto diciamo viene associato a ciò. E qua adesso ci siamo librati un attimino nell'aria per aprire un pochettino le tende, no? Per entrare un po' di luce dentro la casa. Un saluto! Un saluto! Un saluto!